I giovani furono una presenza fondamentale nella resistenza. Il 75% dei combattenti dell'esercito di liberazione appartenevano alle classi di leva dal 1922 al 1925. È vero che sono soprattutto i giovani a fare la guerra e nelle zone d'Italia sotto l'occupazione nazista e la sovranità della Repubblica Sociale Italiana sono i giovani che venivano chiamati alla leva obbligatoria. Con un tasso di renitenza intorno al 40% e di diserzione intorno al 12%, molti di questi giovani devono scappare e nascondersi per non essere catturati dai fascisti e dai nazisti. E in molti casi il rifiuto di combattere la guerra fascista diveniva la scelta della montagna e di unirsi alle bande partigiane. Come ricorda Pavone, la guerra di liberazione fu anche uno scontro fra due generazioni lunghe che avevano conti specifici da presentare agli anziani. Gli antifascisti con i padri che erano stati fascisti o non erano stati capaci di impedire l'avvento del fascismo. I fascisti con il mito del ritorno alle origini di un regime che aveva tradito le speranze di rivoluzione. I giovani che combatterono nella resistenza erano ragazzi nati e vissuti sotto la dittatura fascista, un regime che della retorica giovanilistica si era riempito la bocca al canto di giovinezza. Non si può capire appieno la drammaticità e la radicalità, non solo ideologico-culturale, ma esistenziale e morale della scelta partigiana, se si dimentica che quei ragazzi avevano subito per tutti gli anni di scuola l'indottrinamento quotidiano del credere, obbedire e combattere, del libre moschetto fascista perfetto. Figli della lupa, balilla, avanguardisti, giovani fascisti avevano vestito con ingenuo orgoglio le divise fasciste e partecipato alle sfilate, ai raduni, ai campi dux. Rifiutando quel regime, quell'indottrinamento, scegliendo la lotta partigiana, quei ragazzi vivevano per la prima volta nella storia dell'Italia Unita un'esperienza di disobbedienza di massa.